Alla venerando età di 108 anni un uomo di Galtabellotta è stato operato al femor all'ospedale di Sciacca. Sta bene ed è già tornato a casa. L'intervento è effettuato dall'equip guidata dal primario di ortopedia Tulumello. Positivi al coronavirus, 28 migranti a bordo della nave quarantena Mopi Zazza a largo di Porto Empedocle. Sono scattati i protocolli di sicurezza. Il governatore Lusumece annuncia provvedimenti sanitari urgenti. 49 soggetti totalmente sconosciuti al fisco, 127 lavoratori in nero, 17 persone denunciate per corruzione. Questo è il bilancio dell'attività della Guardia di Finanza reso noto in occasione dell'anniversario dalla Fondazione. Siamo noi che non vogliamo trovarci nello stesso schieramento del Partito Democratico e non l'opposto. Lo ha detto il nostro telegiornale Onofio Labarbera, commissario della Lega Salvini Premier di Libera. La Regione finanzia il progetto del Comune di Sciacca, tra quelli per lavori di ampliamento dei centri comunali di raccolta. In arrivo 430 mila euro, finanziamenti anche a Burgio, Menfi, Calamonece e Villafranca. Nuovo bando a Sambuca di Sicilia per la vendita di altre 18 case, stavolta 2 euro. Il sindaco Ciaccio insiste sulla scia del progetto che ha già acceso i riflettori internazionali sul suo comune. Ben trovati anche oggi al nostro telegiornale Calta Bellottese di 108 anni, operato al femore all'ospedale di Sciacca. A fare notizia non è l'intervento di sintesi del femore effettuato all'ospedale nei confronti di un anziano. Si può dire che si tratta di interventi di routine. Addessare curiosità è l'età del paziente, appunto 108 anni. Sentiamo. La foto che vedete ritrae l'equipe medico-chirurgica condotta dal primario del reparto di ortopedia del Giovanni Paolo II Giuseppe Tulumello. Sono i sanitari intervenuti per operare uno degli uomini più longevi d'Italia con i suoi 108 anni compiuti. Un paziente originario di Calta Bellotta recentemente operato per una sintesi del femore presso l'ospedale di Sciacca. L'intervento chirurgico ha destato compiacimento e soddisfazione fra i sanitari non solo per la veneranda età del paziente, e la mancanza di complicazioni, ma anche per la qualità del decorso post-operatorio. Complice la tempra e le sue ottime condizioni fisiche, l'ultracentenario calta bellottese ha lasciato dopo solo i quattro giorni di degenza all'ospedale di Sciacca per proseguire a casa il percorso riabilitativo e gentra preso in reparto. Preziosa, fanno sapere dall'aspite grigento, si è rivelata anche la collaborazione del dottor Vincenzo Libassi in servizio presso il reparto di anestesia e rianimazione diretto dal dottor Francesco Petrusa, il quale ha eseguito la tecnica anestesiologica loco-regionale. Durante l'operazione non è stato neanche necessario dover ricorrere a delle emotrasfusioni spesso frequenti negli interventi di traumatologia delle ossa lunghi a carico di soggetti anziani. È facile intuire come eventi inconsueti come questo e il loro felice epilogo si carichino di un forte valore simbolico ed evocativo per il messaggio di rinascita e speranze che racchiudono specie a margine dei periodi cupi vissuti in piena emergenza epidemiologica. Lungo questa direzione doppia dunque la soddisfazione espressa dal direttore generale dell'aspite grigento Alessandro Mazzara e dal direttore sanitario Gaetano Mancuso. Sono 28 i migranti sulla nave quarantena Mobi Zazza a Porto Empedocle risultati positivi al Covid-19. Adesso fanno sapere dalla Croce Rossa che gestisce la nave i migranti risultati positivi sono stati messi in un'area diversa del traghetto e li resteranno fino a quando non saranno trascorsi i 15 giorni di quarantena. Nelle prossime ore, ha aggiunto il governatore Musumeci, andranno adottati provvedimenti sanitari importanti per precauzione. Ma sentiamo il servizio. Sono 28 i migranti positivi al Covid-19 salvati in acque internazionali dalla nave Sea-Watch e imbarcati dopo che la nave della ONG tedesca è arrivata domenica mattina a Porto Empedocle sulla Mobi Zazza. I tamponi rinofaringei sono stati effettuati nella mattinata di ieri e a meno di 24 ore è arrivato l'esito, reso noto a tutte le istituzioni, partendo dalla prefettura di Egrigento fino ad arrivare alla regione siciliana. Appena ieri sera si è appreso che uno dei migranti sparcati appunto della Sea-Watch era stato ricoverato a malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Inizialmente era stato ritenuto quale caso di sospetta tubercolosi, poi l'esito del tampone aveva fatto chiarezza, ma al nosocomio di Caltanissetta c'era anche un altro migrante salvato sempre dalla nave della ONG tedesca che è in attesa dell'esito del test. Ieri mattina il test è stato dunque effettuato a tappeto su tutti i 209 migranti imbarcati sulla Mobi Zazza ed i risultati hanno adesso fatto emergere l'allarmante situazione sanitaria. Adesso fanno sapere dalla Croce Rossa che gestisce la nave i migranti in risultati positivi sono stati messi in un'area diversa dal traghetto e lì resteranno fino a quando non saranno trascorsi i 15 giorni di quarantena e i tamponi non daranno esito negativo. A bordo ci sono 26 persone, tra medici, infermieri, operatori dell'accoglienza e mediatori. 6-28 migranti positivi al Covid-19 sono stati trasferiti inizialmente sulla nave in rada a Portempedocle e perché, ha dichiarato nelle scorse ore il presidente della regione Nello Musumeci, con caparbietà lo abbiamo preteso il 12 aprile scorso dal governo centrale per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell'isola senza poterli circoscrivere e controllare. Oggi, ha continuato, si capisce meglio quella nostra richiesta e chi ha vaneggiato accusandoci quasi di razzismo oggi si renderà conto che avevamo ragione. Nelle prossime ore, ha aggiunto il governatore, andranno adottati provvedimenti sanitari importanti al principio della precauzione. Voglio sperare, ha concluso Musumeci, che a nessuno venga in mente di non coinvolgere la regione nelle scelte che dovranno essere assunte. Per violazione delle disposizioni di legge inerenti le misure di contenimento del Covid-19 a Sciac sarà disposta alla chiusura per 5 giorni di un'attività commerciale. L'episodio risale al 2 aprile scorso, dunque al periodo del pieno lockdown. Il provvedimento sarà eseguito dalle Forze dell'Ordine e Polizia Municipale a seguito di un'ordinanza emessa dal dirigente del quinto settore urbanistica del Comune di Sciacca. Tutto è iniziato a seguito di un intervento dai carabinieri della Compagnia di Sciacca che avrebbero accertato lo scorso 2 aprile, appunto, nei locali di questa attività commerciale, il mancato rispetto delle misure anticontagio. Il commerciante avrà la possibilità di fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica nei tempi e con le modalità previste dalla legge. Scoperti 49 soggetti totalmente sconosciuti al fisco, 127 lavoratori in nero denunciate, 17 persone per corruzione, di cui 16 pubblici ufficiali e sequestrati oltre 500 mila euro. Sono alcuni dei risultati ottenuti nell'ultimo anno nell'agrigentino della Guardia di Finanza che ieri al Comando Provinciale ha festeggiato il suo 246esimo anniversario della Fondazione. Nel servizio il report completo delle attività svolte nell'ultimo anno, appunto, dalle fiamme gialle. Sentiamo. La cerimonia del 246esimo anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza si è svolta ieri anche alla sede del Comando Provinciale di Agrigento, alla presenza del Prefetto Maria Rita Cocciufa. Nell'occasione è stata data lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e si è proceduto ad un riepilogo dell'attività svolta dalle fiamme gialle nel 2020. La Guardia di Finanza di Agrigento, nell'ultimo anno, ha eseguito oltre 6.000 tra interventi e controlli operativi e oltre 300 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale. In particolare sono stati scoperti 49 soggetti totalmente sconosciuti al fisco, sottratti alla tassazione oltre 55 milioni di euro, scoperti 127 lavoratori in nero e irregolari, denunciati 17 soggetti per corruzione, di cui 16 pubblici ufficiali e sequestrati oltre 500 mila euro. 400 mila euro sono stati tolti invece alle mafie ed è stato proposto un sequestro per oltre 15 milioni di euro. Nel settore a tutela del monopolio statale del gioco e delle scommesse sono stati eseguiti 72 interventi, di cui 21 irregolari, verbalizzati 141 soggetti, sequestrati due centri scommesse clandestine e 23 apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Sotto la lente di ingrandimento delle fiamme gialle anche gli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica. Riguardo contributi comunitari, un milione di euro è il risultato indebitamente percepito o richiesto ed oltre un milione di euro è stato sequestrato per equivalente. Dai contributi nazionali e locali controllati, 404 mila euro sono stati indebitamente percepiti e oltre 408 mila euro sono stati sequestrati. Oltre un milione di euro di contributi sono stati controllati nel settore della spesa previdenziale, di cui circa 500 mila euro indebitamente percepiti o richiesti. Passando al settore delle prestazioni sociali agevolate sono stati effettuati 72 controlli, di cui 22 irregolari e 21 soggetti denunciati. Tra questi, nove soggetti per indebita percezione del reddito di cittadinanza, che hanno beneficiato impropriamente di oltre 25 mila euro. Nel settore dei ticket sanitari, 24 controlli hanno avuto un esito irregolare, mentre nel settore della responsabilità amministrativa sono stati accertati danni erariali per oltre 13 milioni di euro e 15 soggetti denunciati. Nel comparto dei reati fallimentari e concorsuali sono state accertate distrazioni di beni per oltre un milione di euro e 19 persone sono state denunciate per reati di bancarotta fraudolenta. Riguardo la sicurezza dei prodotti, la lotta alla contraffazione e la tutela del Made in Italy, in 73 interventi sono state denunciate per contraffazione 54 persone, sequestrati oltre 16 mila prodotti, nonché oltre 1,3 kg di prodotti agroalimentari non genuini. Sul fronte antidroga sono stati effettuati oltre 55 interventi dai dipendenti reparti e sono stati complessivamente sequestrati oltre 3,5 kg di sostanze stupefacenti di vario tipo, tratti in arresto 9 corrieri e denunciati 17 soggetti, 12 invece gli scafisti arrestati. Infine, anche l'emergenza da Covid-19 ha visto il corpo della Guardia di Finanza di Agrigento al lavoro. Sono oltre 6.500 le persone, quasi 200 gli esercizi commerciali controllati per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia. 281 le irregolarità riscontrate, 13 le persone denunciate e 250 i soggetti segnalati. Infine, sono stati sequestrati oltre 1.200 guanti e mascherina. Non ci sorprende che il PD abbia rinunciato a sostenere la coalizione di Alfredo Mulea anche perché noi, ancora prima di loro, avevamo detto che dove c'è il Partito Democratico non ci può essere la Lega. Parla al nostro telegiornale il commissario cittadino della Lega, Salvini Premier di Ribera, Onofrio La Barbera, il quale spiega il percorso che ha portato il partito alla decisione di far parte dello schieramento che sostiene l'ex presidente regionale dei col diretti. Sentiamo il servizio. La scelta di sostenere la candidatura a sindaco di Ribera di Alfredo Mulea, frutto di una condivisione con i vertici provinciali del partito, è legata principalmente alla serietà e alle competenze che riconosciamo alla figura di Mulea. Così oggi al nostro telegiornale il commissario della Lega, Salvini Premier di Ribera, Onofrio La Barbera, spiega le ragioni che hanno indotto la Lega ad ufficializzare qualche giorno fa il proprio sostegno alla candidatura a sindaco dell'ex presidente regionale di Coldiretti. Abbiamo deciso di far parte di questo schieramento, aggiunge poi La Barbera, perché è una coalizione di liste civiche e saremo noi gli unici ad avere il simbolo di un partito. Questa decisione nasce per l'appunto condivisa innanzitutto con i vertici, soprattutto con il commissario provinciale. Io avevo detto anche al tavolo due motivi, innanzitutto per la persona di Mulea, che è una persona abbastanza garbata e competente, seria. Poi andare a fare parte di questa coalizione, è stato il primo tavolo da cui subito dopo la mia nomina al commissario dove io ho iniziato le trattative. Diciamo poi che nei diversi tipi di discorsi ci eravamo un po' allargati, ma la nostra proposta era sempre quella di andare con delle liste civiche. A quanto pare siamo stati un po' gli iniziatori in tutti i comuni della Sicilia senza votare, in molti hanno fatto queste scelte. Uno dei problemi iniziali appunto con questo tavolo era la presenza di un gruppo del PD che garantiva di non presentare l'ista, di non presentare il simbolo, scusate. Noi presenteremo il nostro simbolo, quindi in questo schieramento saremo l'unico partito con il nostro simbolo. Il sostegno della Lega ha fatto venire meno come è noto l'appoggio a Mulè da parte del PD. Siamo noi che non possiamo stare dove c'è il Partito Democratico, dichiara Onofrio La Barbera, commentando la recente decisione assunta dalla segreteria cittadina del partito di Zingaretti di non far più parte di questo schieramento. Hanno detto un po' quello che dicevamo noi dall'inizio, noi non possiamo stare dove c'è il PD. Loro dicevano che presentavano una lista civica e insomma ecco perché ci stavamo pensando di questa situazione. Però cambiava faccia, ma gli individui erano sempre quelle quindi ce la stavamo pensando un po'. Fino ad arrivare a questa scelta si sapeva che c'era un po' di mal di pancia all'interno del PD quindi non si sapeva questo. perché hanno fatto le loro scelte e non ci sono problemi. Per la Lega di Ribera le elezioni di ottobre saranno un banco di prova importante che vedranno il partito partecipare per la prima volta alle amministrative. Non sarà facile perché ancora non siamo ben radicati ma ce la metteremo tutte e penso che la gente ci premierà proprio perché siamo volti nuovi della politica riberese conclude la Barbera. Per noi è la prima volta che ci afforciamo quello spettacolo politico delle amministrative è un partito nuovo un partito di giovani e meno giovani con persone abbastanza capaci di andare ad amministrare. Non sarà facile perché essendo radicati come tanti altri gruppi politici sicuramente ci verrà un po' difficile ma questo l'agenda lo capirà sicuramente voleranno le persone e ci voteranno avremo sicuramente il nostro successo anche in virtù di questo fatto che siamo nuovi potevamo fare qualsiasi tipo di scelta non siamo stati vingolati da niente e da nessuno. C'è anche il comune di Sciacca tra quelli ammessi a finanziamento dalla regione siciliana per ampliare il centro comunale di raccolta si tratta di un progetto di oltre 430 mila euro il bando prevede l'utilizzo di 21 milioni di euro di fondi europei finanziamenti previsti anche per altri 12 comuni agrigentini tra cui Menfi Burgio Calamonaci e Villa Franca Sicola sono 87 i progetti dei comuni siciliani ammessi a valutazione dalla regione per realizzare nuovi centri comunali di raccolta e rifiuti o potenziare quelli già esistenti si tratta di un finanziamento di oltre 21 milioni di euro complessivi con fondi europei di questi 87 progetti ben 13 riguardano comuni in provincia del Grigento c'è anche quello di Sciacca che ha presentato un progetto per quasi 437 mila euro oltre a Sciacca sono stati promossi Villa Franca Sicola con un finanziamento di 440 mila euro il comune di Calamonaci con 376 mila euro Menfi con 229 mila euro e Burgio con 406 mila euro per Sciacca Villa Franca Sicola Calamonaci Menfi e Burgio si tratta ovviamente del potenziamento dell'adeguamento e dell'ampliamento di centri comunali di raccolta già esistenti altri otto comuni agrigentini invece hanno progetti pronti per realizzare queste strutture utili per giungere alla diminuzione dei rifiuti e per potenziare la raccolta differenziata si tratta dei comuni di Grotte Santo Stefano Quisquina Santa Margherita di Belice con una struttura che sarebbe al servizio pure del comune di Montevago per un totale di quasi un milione di euro Ravanusa Castrofilippo Alessandria della Rocca Castel Termini e Cattolica Ereclea con le risorse disponibili si concorre dunque alla corretta gestione dei rifiuti a livello locale dotando così questi comuni di centri di raccolta rifiuti urbani differenziati con lo scopo di integrare i servizi e gli impianti e contribuire di conseguenza allo sviluppo dei materiali da recuperare e riciclare adesso la commissione di valutazione stilerà una gradatoria sulla base dei criteri previsti dal bando la misura metteva a disposizione circa 16 milioni per la costruzione dei nuovi impianti e 5 milioni per migliorare quelli già esistenti i centri di raccolta dovranno rispettare le norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e non dovranno creare rischi per aria suolo acqua fauna e flora e non creare rumori e odori dovranno anche essere previste adeguata viabilità pavimentazione impermeabilizzata recinzioni e barriere un nuovo bando per un'altra trancia di 18 immobili di vecchi immobili di proprietà del comune di Sambuca di Sicilia da vendere stavolta 2 euro l'iniziativa del sindaco Leo Ciaccio vuole bissare il successo di quello precedente quello delle case ad un euro aspettiamo l'approvazione del bilancio e così pubblicheremo il bando ha detto Ciaccio in un'intervista rilasciata oggi al nostro telegiornale ascoltiamolo appunto intervistato da Massimo Tantoni allora sindaco Ciaccio adesso dalle case ad un euro alle case a due euro naturalmente si conferma il dato simbolico cos'è successo nel frattempo? parliamo che l'anno scorso il bando delle case ad un euro è stato un successo un successo non solo a livello mediatico non solo a livello di promozione del territorio ma anche un successo nell'investimento nel senso che per noi è stato un investimento la gente ci ha diciamo creduto si è innamorata diciamo del posto e la nostra piccola scommessa è diventata un vero investimento nel senso che ci sono state centinaia e migliaia di persone che hanno manifestato l'interesse e poi tutte le case in vendita sono andate a ruba e quindi abbiamo deciso anche per una questione mediatica quest'anno visto che tutti poi hanno fatto come partendo dal nostro successo è la promozione delle case a un euro noi quest'anno l'abbiamo messa a due euro proprio perché vogliamo diciamo differenziare la campagna precedente con quella di quest'anno dopo l'affegnazione delle precedenti case a un euro sono arrivati i lavori di ristrutturazione ce ne sono in corso al momento sì ci sono lavori in corso per fortuna naturalmente il covid ha un po' interrotto tutto perché sono diciamo state comprate da persone che non abitano in Italia quindi sono tutti stranieri quindi materialmente i lavori per motivi di pandemia sono stati interrotti o comunque qualcuno che era in procinto di iniziare non ha iniziato e devo dire che per fortuna diciamo i nostri artigiani per ora sono abbastanza impegnati nei lavori anche di di ristrutturazione di questi immobili questo nuovo bando che tempi ha adesso aspetteremo l'approvazione del bilancio con gli allegati che entro questo mese di luglio penso entro la metà di luglio verrà fatto verrà approvato e poi facciamo tutta la procedura che è necessaria per fare il bando naturalmente faremo coincidere il bando con la possibilità di chi è interessato a venire a trovarci perché anche questa è una bella scommessa perché l'anno scorso decine di migliaia di persone sono col fatto che non potevano avere informazioni complete sui siti e anche sui luoghi hanno preferito di venire a vedere gli immobili di presenza e quindi questo ci ha comportato anche un flusso di persone che si sono poi fermate settimane giorni e che hanno comunque dato all'indotto un'economia non indifferente quindi dal borgo dei borghi alle case un euro Sambuca è diventato un po' il centro di questo scorcio di questo Sambuca è anche un modello di progettazione di euro progettazione alla sapienza che ci vede diciamo protagonisti proprio come modello europeo per la progettazione delle case un euro e della riqualificazione urbana e rigenerazione urbana quindi per noi sono traguardi che ogni giorno si raggiungono naturalmente le case un euro sono finite ora chi le vuole a due euro questo è chiaro non è sfuggito che c'era anche lei tra i sindaci a Punta Raisi nella protesta del Lanci contro il caro Voli all'Italia voglio utilizzare questo spunto per chiederle come si fa a ripartire dopo questa emergenza sanitaria che per fortuna diciamo ci ha toccati dalle nostre parti soltanto fino ad un certo punto però le conseguenze dal punto di vista economico della possibilità turistica di questo territorio purtroppo sono brutte sono negative al momento certo i territori che vivono di turismo sono quelli più penalizzati la Sicilia è una regione che il 16% del PIL viene diciamo dato dal settore turistico quindi siamo una delle regioni più penalizzate per noi è importante che ci siano ci sia la comunicazione che funziona e la comunicazione naturalmente ci sono le media ma poi la comunicazione avviene diciamo quella ordinaria tramite i aeroporti i porti per noi è importante che sia possibile raggiungere la Sicilia e quindi il nostro territorio facilmente a costi diciamo ridotti e nello stesso tempo che ci siano i voli perché se non ci sono i voli ancora peggio cioè non possiamo non si può raggiungere un territorio se non ci sono le vie di comunicazione prima dell'avvio prima dell'avvio dell'anno scolastico in Sicilia si adotte un piano per effettuare dei test sierologici diffusi agli studenti ai docenti e al personale scolastico lo dice Michele Catanzaro parlamentare del PD rivolgendosi al governo regionale sentiamo una proposta quella di Michele Catanzaro di effettuare test sierologici al personale scolastico e agli alunni che si inquadra sulla scia di un'emergenza che per fortuna dopo gli spauracchi iniziali ha visto la Sicilia poterla gestire rimangono intatte tutte le necessità riguardanti le misure di distanziamento sociale Onorevole Catanzaro in vista della futura ripartenza dell'anno scolastico lei ha proposto che si facciano i test sierologici abbiamo consigliato e proposto al governo musulmeci di pianificare delle azioni di prevenzione di controllo e di battaglia al coronavirus che sono ovviamente proiettate sull'autunno la prima è la campagna scola sicura che consiste appunto nel prevedere i test sierologici per tutto il personale della scuola amministrativo e docente perché sono la fascia più a rischio che ovviamente potrebbero contagiare i bambini o gli alunni che sono nelle scuole parliamo di circa 100 mila test per la Sicilia e quindi sarebbe necessario avviare questa campagna a fine agosto e primi di settembre per dare un'ulteriore sicurezza e tranquillità alle famiglie spero che questa nostra richiesta e proposta venga accolta dal governo consuneci che quindi si prosegua per dare maggiore sicurezza la scuola forse più di altri comparti della vita pubblica è quella che ha dovuto fare conti con una realtà senza precedenti dove il ricorso obbligato alle video lezioni non potrà mai sostituire l'importanza della frequenza scolastica e del confronto tra docenti e alunni al di là delle direttive ministeriali l'idea che i bambini i ragazzi i bambini tornino a scuola separati dai plexiglass è veramente bizzarra guardi veramente bizzarra quindi speriamo che questa possa essere diciamo un qualcosa che venga superata ed è per questo che chiedo al governo immediatamente di attivare questa procedura che potrebbe appunto dare tranquillità manutenzione dei fiumi occorre un urgente intervento di sistemazione idraulica delle platani nel tratto che interessa i comuni di Ribera e Cattolica e Raclea per evitare le esondazioni che sistematicamente si verificano più volte l'anno a lanciare il grido d'allarme il candidato a sindaco di Ribera Alfredo Molè che ha avviato una petizione da trasmettere alla presidenza della regione sentiamo di cosa si tratta nel comprensorio di Ribera a destare preoccupazione non è solo il mancato avvio dei lavori di pulizia del fiume Verdura quelli da tempo finanziati ma che non possono partire per il famoso sesto lotto di competenza della protezione civile per il quale non sono state ancora definite tutte le pratiche burocratiche c'è anche il fiume Platani che ha urgente bisogno di interventi una vicenda quest'ultima che registra l'intervento del candidato a sindaco di Ribera Alfredo Molè il quale si è fatto promotore di una petizione rivolta alla presidenza della regione per porre l'attenzione sulla delicata questione della manutenzione dei fiumi in special modo proprio del fiume Platani che necessita di lavori di sistemazione idraulica nel tratto che interessa i comuni di Ribera e Cattolica Eraclea dal ponte lungo la strada statale 115 fino a Valle l'incuria ogni anno provoca esondazioni e gravi danni alle aziende agricole e la paura è quella di dover affrontare una nuova stagione delle piogge con il Platani in queste condizioni per Alfredo Molè il grido di aiuto degli agricoltori non deve rimanere inascoltato scopo della petizione è pertanto quello di arrivare presto alla messa in sicurezza del corso del fiume l'intervento di messa in sicurezza eviterebbe infatti le disastrose esondazioni che sistematicamente si verificano anche diverse volte l'anno scrive Molè nella nota trasmessa al presidente della regione nello musumece al capo del genio civile di Agrigento Rino Lamedola e a tutti i deputati regionali eletti in provincia nuovo monito del sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro a proposito degli annosi ritardi dei lavori sulla statale 189 Palermo Agrigento è inconcepibile afferma Cuffaro che i lavori procedano a ritmo così lento e che si continui a mortificare l'intelligenza dei tanti siciliani che ogni giorno percorrono questa importante arteria ha fatto bene il presidente della regione musumeci continua Cuffaro ad avviare un'azione legale contro l'ANAS con la quale chiede per conto della Sicilia un risarcimento per danni economici e d'immagine non solo per la 189 ma anche per vari altri cantieri sempre in stallo in tutta la regione credo conclude il sindaco di Raffadeli che sia giusto che ognuno di noi faccia sentire la sua voce per far capire ai vertici dell'ANAS che i siciliani sono stanchi di dover subire di essere quotidianamente mortificati arbusti e aiuole non ancora pulite nelle periferie pericolose in alcuni casi anche alla circolazione di questo ci occupiamo nella rubrica dedicata alle vostre segnalazioni strade pericolose c'è anche questa come conseguenza della mancata pulizia a fine giugno ormai dall'erbaccio in alcune zone della città la prima segnalazione ci arriva oggi da Contrada Carcossea è lungo la curva sulla strada che porta a Raganella che un motociclista si è fatto male oltre il guardrail un tempo oggi completamente quasi sulla strada si trovano degli arbusti le marruche piuttosto alte e prospicenti fino alla carreggiata la cui caratteristica è quella di avere delle lunghe spine spine che sono diventate pericolose per il motociclista è il caso di chi la nostra redazione ha raccontato di averne prese un paio dopo che per evitare un'automobile che ha velocità in basso alla corsia si è scansato prendendo in pieno le spine degli arbusti un episodio che rischiava di finire peggio e che sollecita una immediata pulizia dei bordi della strada da simili e pericolosi arbusti ci spostiamo in via dei tonnaroti all'incrocio che separa Contrada Perrera dalla zona Lido incrocio la cui visibilità è reso ormai impossibile alle erbacce alte oltre che a coprire la segnaletica stradale impediscono a chi transita di verificare il sopraggiungere di automobili o mezzi in genere aiuole che andrebbero sistemate così come andrebbe fatta la pulizia dei marciapiedi dalle erbacce in tutto il quartiere chiudiamo passando da via Cappuccini dove dopo alcuni interventi del gestore idrico la strada presenta ancora una parte di scavi delimitata da segnaletica inibita al passaggio che è diventata nel frattempo un ricettacolo di rifiuti strada quella di via Cappuccini parecchio transitata dove gli scavi una volta aperti andrebbero definitivamente chiusi e sistemati senza che passino settimane o mesi e adesso siamo al momento dedicato al libro da leggere quando la notte inghiotte pure la luce dei lampioni e il verso metallico di un uccello notturno si fa strada nel silenzio Lucy Fly sa che la terra sta per tremare anche il giorno in cui viene arrestata Tokyo si è risvegliata con una scossa di terremoto non è certo una cosa inusuale nella capitale giapponese eppure Lucy la vede come una metafora di ciò che le sta accadendo la sua nuova vita nella immensa città nipponica è stata meticolosamente ricostruita per fuggire dai tragici segreti che oscurano la sua esistenza e il suo passato in Inghilterra ha scelto l'anonimato un tranquillo lavoro da traduttrice poche amicizie e un solo uomo Teiji un fotografo giapponese a cui è legata da una passione totalizzante eppure di nuovo tutto sta per sgretolarsi sotto i suoi piedi mentre viene trascinata in commissariato con un fitto interrogatorio Lucy ha ben chiaro cosa vogliono sapere da lei come mai Lily Bridge sua amica inglesa e come mai lei è stata vista per l'ultima volta viva vicino a casa sua mentre litigavano e poi il suo corpo è stato ritrovato smembrato a largo della baia perché da quel giorno Teiji il suo affascinante fidanzato che amava a fare scatti rubati a entrambe le amiche è scomparso senza lasciare traccia ma soprattutto chi è e cosa sa davvero Lucy Fly ambientato in una Tokyo vertiginosa e convulsa dove la terra trema è un thriller inquietante e oscuro che ci trascina nella mente di una donna vulnerabile e allo stesso tempo astuta come un animale intrappolato da questo romanzo è stata tratta una produzione Netflix dove la terra trema di Susanna Jean Edito Harper & Collins Anche la regione siciliana si adegua alla cosiddetta fase tre e permette adesso anche gli sport da contatto via libera dunque a calcio calcetto basket e pallavolo ne parliamo nel servizio via libera finalmente anche ai cosiddetti sport di contatto come calcio calcetto pallacanestro pallavolo e così via l'assessore regionale per il turismo sport e spettacolo Maglio Messina d'intesa con l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza ha firmato infatti il decreto che consente la ripresa del libero svolgimento delle attività sportive il presente decreto si legge nel documento conserva la propria efficacia e validità fino ad eventuale differente valutazione dell'andamento epidemiologico nell'isola e comunque fino a nuova disposizione il decreto degli assessori Messina e Razza è stato notificato per conoscenza anche all'Anci Sicilia alle aziende sanitarie e alle federazioni sportive di settore con questo provvedimento il governo musumeci vuol dare una risposta alle diverse federazioni e ai tantissimi appassionati che da tempo ci chiedevano di poter sbloccare una serie di discipline sportive commentano Messina e Razza lo facciamo seguendo le linee del governo nazionale ma anche del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico era un provvedimento particolarmente atteso sia da alcune federazioni sia da diverse società ed associazioni sportive che finalmente possono riprendere l'attività seguendo sempre tutte le indicazioni prima tra tutte quelle riguardanti le norme igieniche e di sanificazione prima di questo nuovo decreto come si ricorderà erano consentiti soltanto gli sport individuali come per esempio il tennis il nuoto il canottaggio e così via adesso finalmente spazio a tutti siamo in chiusura per questa edizione ancora una volta grazie per averci preferito appuntamento alle prossime a tutti a tutti